buongiorno ragazzi siamo in live sul sito viola sul sito viola e andiamo a registrare con la nostra chat ora allora ragazzo con i giocatori briggs nel negozio ovviamente quindi andateci a parte che ne so io goku andate a giocare di dragon bonzo con il mio codice ovviamente su questo che è su briggs e commentino se non mi piace oggi andiamo a giocare in singolo che ha portato la caccia bello e non giocare in singolo ragazzi tuffi addosso e ci vediamo che ti metti in giro ciao ecco partono file in selvatico buonasera c'è gente che spara le bombe le bombe le bombe le bombe ah proprio ti dico eh che appena guardo una persona muore mi devi vedere un po' lei ciao i brothers stavo per ma non so molto mi sarebbe piaciuto eh e invece no oddio santo buongiorno sorry brothers soprattutto che cosa il bro fa molto il bro fa molto il bro fa molto riscrivetevi come mi ha senso qua ha deciso di di curarsi senza aveva niente aveva ancora il ferro 35 ecco qua non è il bot ecco si si no no non è il bot non era il bot sorry brothers è un bot goku un bot goku non so il bot con me tra basso dei muri io ti prendo qui è l'uccello ho detto che c'era una sagoma c'è l'uccello buon gioco pigeon non c'è più il pigeon ma favore pigeon hai capito è micropa mia è lui che esploso eh dai eh vabbè eh vabbè ma quando fai si non lo so gli ho matto qualcosa qua l'uomo non lo so la palla ma quando fai è l'uomo è l'uomo che esplosito è l'uomo che esplosito è l'uomo cosa va bene Vabbè! Vabbè! L'ha visto prof? Io non l'ho visto personalmente Non è che io l'ho visto? Non lo so prof, vuole invitare anche un altro qui, non lo so Non lo so, quanta chi ti c'è qua dentro, me lo spiegate Un pop a blu, un pop a blu Un pop a blu Ripperotti per mello Perché per il pop a blu? Cassa Legend No, 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 di me Prof, non ci sono una metà aiuta da 300 metri già scritto E' buono Forca e vacca Non mi ha sparato il colpo di pompa C'è il... è a 5000 metri il mattone che hai pingato, ragazzi, guardatelo C'è un mattone pingato a 5000 metri, perché? Ma lo vedete, tu fai una faccia Ma cos'è? Vabbè, vabbè, vabbè Andiamo a me, vabbè Ma voglio il mattello Ma voglio il mattello io Non voglio il mattello Non voglio il mattello Vai Cerca Vabbè 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 Davvero? Davvero Ha preso anche me Vabbè Cazze mille potenti le matti Ma Discippo la corona, prof Discippo la corona Gente che arriva, sta tendo la corona Cosa? Ah Subito un bufo Ah, hai rotto le palle, zio, eh 197, è morto GG Ci sei? Andiamo, andiamo, andiamo Mi tira, mi tira, mi tira Salì, salì Dato agente Più di un team? Sì Ahia Qui, qui mi metto a check in a ragazzi L'altro è quasi morto L'ho fatto cento Qui sta full shieldando Ma Ha scappato via Sì 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 Un po' Sì 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 cosa o vabbè ma distrutto stai non c'ho sette di vita via e vabbè cazzo sono morto eh vabbè mica ho trovato ho trovato il due matti che mi devono seguire per 47 uno di loro mi sta secondo me eh l'altro biscotto sta seguendo si deve andare a bastione come stanno tutti e due stanno allora vai qua ruota qua ruota qua trovato il più nuovo niente però mettiamo a lontare per terra no guarda che c'è il martello perché lo lascio poco capita che mi ascolta la camminata se vuole proprio le lascio la pistola anche qua lascio la scala e la pistola mi ti fa capito brof? allora si ho capito tutto lì eh non lo perdo no poi non lo scala allora no poi non lo scala non lo scala mi dai là? no è la cosa? come si chiama? lo lascio a parire non lo mi vicino a me? cosa ce la fai? sono targettati via oh pazzi sgravati ma sono ultimi due stadi non ho mai che sono 31 9 31 9 29 blu ceo questo si ha 400 100 quello lì che sta fermo non becilla non ha fatto un po' male anche lui però ho usato un rift prof non so e il resto mi sta salvando un bato di volto 5 blu mi fa a fincare dove sono no so dove sono sta bene un po' non è il po' quale sto un po' si non è la una un po' un po' un po' un po' un po' un po' l'ho ucciso uno l'ho ucciso uno l'ho ucciso o l'hai fatto mai non ho capito l'ho fatto 99 non ho capito è accaduto l'ho fatto 19 l'ho finito stai c'è un giro di te o sono qua un davanti non ho capito io si stanno qui si dove? poi un pinga qui ah ok uno sta lì non so dove sta l'altro l'altro sta lì qua sotto l'altro sta facendo cadere tutto eh l'altro sta facendo cadere tutto eh l'ho ucciso bianco è il c'è un'altra si è un'altra c'è un'altra è un'altra è un'altra come capi? madre tu oh precisamente bro preciso 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 5 kill e 6 e io 8 io ho fatto 8 no l'ultimo kill 8 ragazzotti grazie a me di Stalin bella partita lo troverai sul mio canale di tubo iscrivetevi mi piace addio e grazie per quanto è piacere ciao comunque esattamente a 30